Allora mi ritrovo a Vescovio, al santuario di Vescovio che sarebbe praticamente la chiesa più importante delle mie zone Se non trovo qualcosa di epico qua penso che non trovo più niente da nessun'altra parte Ok, c'è un punto di controllo e sarebbe la chiesa immagino Santuario Vescovio, com'è troppo lontano? C'è sto a 2 centimetri Cioè non è che sto a 2 centimetri realmente, cerchiamo di avvicinarci Un'abra, un'abra cazzo, un'abra, dai dai dai, un'abra Sono contento, un'abra selvatico, vediamo un po', cerco di mettere il real life pure a livello basso comunque Sempre sul cruscotto, sempre sul cruscotto, noi lo lanciamo sul cruscotto e non ci prendiamo e salta, cazzo tosarti Sta più a per culo frate, aspetta un attimo Mi fai mettere real life, cioè mi fai mettere, switcha la videocamera, non mi fa switchare la videocamera Perché si è impallato per la connessione, immagino E immagino che non me lo faccia neanche catturare, vediamo Eh, è uscito Ok, noi mettiamo Cosa? Errore Mi ha dato errore con Abra Cos'è sta tristezza, oh? Mi ha dato errore con Abra Comunque non c'è nulla nei dintorni, a parte Abra che mi è scappato malamente C'è un Gastly, dai, cazzo invece C'è un Gastly, a che livello? Quanto sei brutto? Che livello? Sta a 143 Non metto realtà aumentata perché poi sarebbe impossibile Mentre guido e non uscire, perfetto Al primo tentativo, speriamo bene, speriamo bene Ho anche macchine dietro, non posso Perché non Che problema? C'è qualche problema, regà Cioè non, 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 non si può catturare Cioè non mi gira, non fa nulla Ma cos'è? Qualche bug, bastardo No, non ci credo Cioè avevo Gastly, regà Avevo preso Gastly Cos'è sta storia? Comunque, Pesco Pio, Porta Sfiga, regà Brabra, mi è scappato e Gastly mi è sempre all'acqua Quindi fai più a Pesco Pio Sarà grosso, sarà bello l'abbazia Venite la visità Ma porca puttana se Porta Sfiga Non si è catturato anche azzo Mentre ho trovato un Clefari A Cantalupo Cioè sono arrivato a Cantalupo Cioè per chi conosce queste zone, regà Mi sono fatto tipo tutta la sabina E sto tornando a casa Quindi il video sta per finire Lo dividerò in due parti Sicuramente perché fai troppo lungo dopo Comunque ho catturato il secondo Clefari O il terzo, o il quarto, non mi ricordo Comunque tanta roba 50 caramelle si evolve Un po' troppo, regà Un po' troppo Comunque spero di trovare un Eevee Perché mi serve assolutamente un Jolteon, regà Quindi più Eevee, più caramelle E più caramelle Eevee Più facilmente Arrivo a far evolvere Jolteon Comunque mi sto allontanando dalla zona abitata A quanto pare Speriamo di catturare come ultimo Pokémon Di questo viaggio Praticamente di questo viaggio C'è tanto spazio di archiviazione Finito Speriamo di catturare l'ultimo Pokémon Di questo viaggio Ma ne farò altri Spero di giorno Con un Action Cam Speriamo di catturare Un Eevee Come ultimo Pokémon No Ci sono rimasto malissimo Mi dava Eevee qua, regà Cioè io speravo Eevee Mi dava Eevee qua Un passo è scomparso Ma è uno scherzo Ah no, eccolo No, a tre passi adesso Che cosa è comparso? Uno Spiro Prendiamoci Spiro Prendiamoci Spiro Vediamo un po' Ciao Spiro Ciao, ciao, ciao Bella A che livello sei? A livello 95 Ma cosa? E' un fame? Cioè sto a spiegare Poké Ball per te, sì? Fermate un attimo Mazzate il lancio del merda C'ho pure poca memoria Sbrigiamoci Mi serve Eevee Oh ma ha rotto il cazzo? Ah, l'ho preso al volo Regà, proprio al volo L'ho preso Comunque Mi devo un attimo Ma vaffaculo Vaffaculo Spiro del merda Mi serve Eevee Quindi andiamo a prenderci Eevee L'ho visto qua, regà Eevee stava qua Cioè mi sto rigirando Ero arrivato a casa Mi sto rigirando per Eevee Vediamo un po' Se ci avviciniamo O allontanando Non lo so Io provo ad andare alla stazione Un attimo Vediamo un po' Perché io abito Un po' Cioè non proprio vicino alla stazione Vediamo se ci avviciniamo a Eevee Che è il Pokémon che vogliamo È il Pokémon che ci serve Non sembra che ci stiamo avvicinando Anzi È normale Dai corri, corri zì Corri fratello Guardate il personaggio come corre Già stacca pincazzo No, non ci stiamo avvicinando a Eevee E questo è un problema Non ci stiamo avvicinando a Eevee E questo è un problema Però noi cosa facciamo Prendiamo un punto di controllo Ovvero la stazione di Poggio Milteto Che oggi non ci siamo ancora andati Prima di tornare a casa Facciamo questa cosa bella Ci parcheggiamo Cos'è che ho perso un Clefari E noi ci prendiamo un Clefari Un Clefari Un Clefari Lo chiamo Clefari Ma è un Clefari Prima di andare a prendere il punto di controllo Lanciamo 174 Regà Spero che entri Nel frattempo c'è gente qua Che mi guarda sempre male Io non capisco Porca puttana Mi do sbrigata Io voglio Eevee Te sei qualcosa che In più Però ti catturo Ti voglio catturare Perché così Prendiamo Clefabi Clefabi Evoluzione No 67 Dico Vaffanculo Prendiamoci il punto di controllo Perfetto Vediamo cosa ci danno Vediamo cosa ci danno Poggio Amma mia quanta roba Si vede che Poggio Non è passo preso De merda Comunque Clefari Le mandamola a puttane E a sto punto Eevee dove sta Eevee dov'è Mi dava due passi De là Qua sta registrati Eevee dove sta Cioè io sto alla ricerca di Eevee Invece di tornare a casa Ok Clefari Mi serviva Ma Eevee Eevee è più importante Eevee è più importante Vediamo un po' Vediamo un po' Di riuscire a prendere Questo cazzo di Eevee Comunque quella gente Stavano tutti con i telefoni Cioè tutti stanno con i telefoni Non ci posso credere Tutte con i telefoni Alla ricerca di qualcosa Che Pokemon Stavano cercando di prendere Vediamo Dai sempre tre passi Niente Tre passi Non ci riusciamo ad avvicinare A Eevee Qua prima mi dava due passi Poi uno Poi è scomparso Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Ok Qua Pidgeon e Fearop E Spearop Magari Fearop Come prima Niente Niente Vediamo se qua Ci avviciniamo Niente Regali Sembrerebbe Che Non lo so Dove cazzo è Cioè sarà per Franti Eevee 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 Cazzo Eevee Ferena Frena Cioè regà Non potete che cazzo ho fatto In mezzo strada Ho inchiodato Dai 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 Catturiamo Eevee Come ultimo Pokemon Come spera 195 Regà Spero che abbia Corpo scontro Perché il corpo scontro Come vi ho detto Si evolve in Joltion Fossa in Flareon E Commedia in Vaporeon Vediamo No cazzo 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 Dai Sbrigati Sbrigati Mi sono parcheggiato a mezzo strada Regà Mi sono parcheggiato a mezzo strada Per prendere Questo fottuto Eevee Lo faccio per voi Lo faccio per voi Preso Eevee Cazzo Preso Eevee Perfetto Mi mancano Tipo pochissimi Me ne mancano Cioè regà A me manca Un Eevee Soltanto Per prendere Joltion Mi manca Un Eevee Per prendere Joltion Mi manca Un fottuto Eevee Per prendere Joltion Per prendere Joltion Scrippi 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 Grazie.